Eccomi qua di nuovo ragazzi, allora in questo video apriremo il Collector's Team in versione europea Ok, partiamo subito ragazzi, questo qui contiene 48 carte più una limited che dovrebbe essere quella di Harry and Robin Così mi pare dopo aver visto gli altri video che sono stati messi su Youtube da altri Youtuber Quindi dovrebbe capitare anche a me, adesso vedremo Allora, vediamo questo è l'Adrenal XL Trading Card Game Collector's Team 2014-2015 Panini della UEFA Champions League Autentico ovviamente, comprato da Ebay, tutto comprato da Ebay ragazzi Quindi se siete interessati e volete sapere dove ho acquistato questa roba da Ebay Ok, ecco qua questo è il Team, andiamo ad aprire benissimo La Limited Edition la vedremo dopo ragazzi, una sorpresa Adesso andremo ad aprire i pacchetti, eccoli qua, questa è la Collector's Team Ok, vabbè qui c'è tutta roba che non ci interessa Eccolo qui, la mettiamo di nuovo qui Ecco qua, questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben 8 pacchettozzi ragazzi Allora, vediamo qui sempre i stessi artwork di prima Vediamo se c'è qualcuno diverso No, tutti uguali Penso che siano questi, qui alla fine, tutti gli artwork disponibili Ok, bando alle ciance Apriamo il primo pacchetto di questo Collector's Team Dovrebbe contenere in totale 48 carte, ovvero quindi Sono 8 pacchetti Allora, mettiamo qua Allora, abbiamo Derlis Gonzalez del Basilea Poi Joe Hart del Master City, benissimo Arkaduis Milik Dell'Ajax Tiago Motta, grandissimo Key player del Paris Saint Germain Poi il Club Beige del CSKA di Mosca E infine Delvin Ndingava del Olympiakos Perfetto, questo lo mettiamo qua, questo qua e o qua Secondo pacchetto ragazzi Secondo pacchetto Vediamo cosa ci riserverà Cosa è in serbo per noi Allora Qui abbiamo Zorantosic del CSKA di Mosca Poi Emre Khan del Liverpool Philipp Lahm, il capitano grandissimo del Bayern Monaco Questa la mettiamo alla fine Giriamole queste Capovolgiamole Allora, Master Marco Reus del Dortmund E Kurzawa del Monaco Teammate Sempre Vediamo qui cosa c'è Grandissimo Arturo Vidal Game Changer Della Juventus Benissimo Lo mettiamo qui Terzo pacchetto Grandissimi Questi pacchetti Ok, questo l'abbiamo sfasciato Benissimo Allora Wilshere Dell'Arsenal Poi Gianluigi Buffon Della Juve Lima del Benfica Mettiamo a fuoco Ok Poi Rising Star Raheem Sterling Del Liverpool Ovviamente E infine abbiamo Due club edge Del Bayern Leverkusen E del Monaco Perfetto ragazzi Perfetto Tante bellissime carte Regalano questi pacchetti Infine dopo Andremo a vedere Anche la Limited Edition Voglio rimanere Sulle spine Dovete seguire Tutto il video Sì video Scusate Se volete sapere Chi si cela Dietro Al Tin Ovvero la Limited Edition Ok Matteo Del Barcellona Poi Aspiliqueta Del Chelsea Streller Del Basilea Questa la vediamo alla fine Poi qui abbiamo Luis Adriano E Joao Mutigno Del Monaco E qui c'è Joel Matip Dello Sharky 04 Defensive Rock Ok Difensore roccioso Perfetto Altro pacchettozzo Che è andato E ne sta per andare un altro Eccolo qua Ci apprestiamo Ad aprire anche questo Sfondiamo tutto Dai Allora Grandissimo Diego Godin Del Atletico Madrid Benissimo Poi Carlos Tevez Della Juve La Pache Sven Bender Del Borussia Dortmund Wow Andresi Niesta Key player Del Barça Grandissimo Ashley Cole Expert Della Roma Grandissimo Questo pacchetto Ragazzi E poi Siovas Dell'Olympiakos Grande Grande Bellissimo Questo pacchetto Mi ha regalato Un po' Grandi emozioni Con Aniesta E Ashley Cole Grandissimi Anche se Ashley Cole Ormai si può definire Quasi un ex giocatore Perché non è più Quello ammirato Al Chelsea E Più che al Chelsea All'Arsenal Perché nell'Arsenal È davvero un grandissimo Allora qui abbiamo un altro esterno di destra però In questo pacchetto Che è Glenn Johnson Del Liverpool Anche lui ex Chelsea Poi Manuel Neuer Grandissimo Del Bayern Monaco Uno dei migliori portieri Della storia del calcio Secondo me Simon Mignolet Del Liverpool Altro portierazzo Poi Rising Star Fred dello Shakhtar Donetsk E questo mi mancava Grande Grandissima ragazzi Grandissimo Double Trouble Mario Goetz E Thomas Müller Del Bayern Monaco Bayern Mansion Diciamo così In tedesco Grande Grande Perfetto E poi Fabian Scharr Del Basilea Master Benissimo Questa Double Trouble Grandissima Mi serviva proprio Perfetto ragazzi Questo team Mi ha regalato Anche una Double Trouble Quindi sono veramente Molto molto contento Anche perché queste carte Non escono facilmente Andiamo a vedere qui In questa edizione europea Invece quante Double Trouble Si possono incontrare Diciamo così Allora Una In ogni 35 pacchetti Beh non tante Vabbè C'erano Più probabilità Nel pacchetto Nei pacchetti Nel display Diciamo così Nel booster pack Nel box Come volete dire voi Il quello Ok Vabbè Sti cavoli Tanto alla fine Credo che la maggior parte Delle carte Mi siano uscite Mi mancano solo Quelle un po' più speciali Diciamo così Come appunto Le Double Trouble Allora Emre Can Non perdiamoci in chiacchiere Ragazzi Poi Philipp Lam Wilshire Questa la Conserviamo Alla fine Poi Teammate Douglas Costa Eric Abidal Dell'Olympiagos E qui Cosa c'è? Benissimo Gary Shahil Cahil Scusate Del Chelsea Defensive Rock Cahil Bellissimo Veramente una roccia Quel difensore Ragazzi Incredibile Ultimo pacchetto Ragazzi E poi andremo a scoprire La Limited Edition Vi raccomando Rimanete sulle spine Scherzo Scherzo Dai ragazzi Dai seguitemi Allora Abbiamo Gianluigi Buffon Poi Lima Mathieu Marquinhos Defensive Rock Anzi no Rising Star Del Paris Saint Germain Un po' francese qui Poi Francesco Totti Della Roma E infine Sergio Ramos Del Real Madrid Benissimo Queste le mettiamo qua Andri Andiamo a scoprire Un po' Cosa Qual è questa Limited Allora qui Vabbè c'è il foglietto Illustrativo Di cosa contiene il tin Vabbè Ecco qua Cioè Contengono All'interno Fanno vedere come si apre il tin Dai sti cazzi Ragazzi Vabbè come si mettono le carte Cioè Ragazzi dai Andate a fanculo E voilà Eh si era proprio quello che speravo Invece Anzi no Sì scusate E' proprio quello che speravo E quindi Si è rivelato come ho detto Harry and Robin Eccolo qua Che va A raggiungersi A Cristiano Ronaldo Eccolo qua Guardate qua ragazzi Queste limited edition Sono spettacolari Eccolo qui Robin e Ronaldo Perfetto Mettiamo qua Perché adesso Nel prossimo video Andremo ad aprire Quei 10 blister lì Che vedete ragazzi Sullo sfondo Allora Che dire Sempre le solite cose ragazzi Sapete già Iscrivetevi al canale Mettete un bel like Perché con i vostri like Io cresco E aumento Diciamo così Le visualizzazioni Ovviamente Aumentando le visualizzazioni E le iscrizioni Sarò più propenso A comprare i display Perché poi Se pubblico video E nessuno mi segue Cioè alla fine Cosa faccio a fare i video Quindi io voglio convidere Insieme agli altri Insieme ad altre persone Insieme a voi Insieme ai Fan di questa serie Collezionisti o non Ovvero Appassionati di calcio A Diciamo così Condividere con Con voi La mia passione Ovvero Collezionismo Di questa serie Vabbè Non divulghiamoci troppo Come sempre Non dilunghiamoci Scusate Io vi mando sempre Un saluto Come ho detto Scrivete Mettete un bel like Seguitemi sulla pagina Facebook Condividete i video Con i vostri amici Un saluto A tra poco Per i 10 blister Ciao Ciao